La vittoria di Livorno per come è maturata, per il valore dell'avversario, anche per il contesto, perché all'ardenza non è mai facile vincere, l'Arezzo ne sa qualcosa, questo può dare una spinta in più alla squadra o pensa che il campionato e Coppa siano due binari paralleli? Sono due binari, sono di maniera inerzi, però è molto bene, Livorno è lo scenario, con tante persone nostre al seguito, con tutte quelle c'era di loro, con un grosso tifo, con il palcoscenio all'artenza, ci deve dare ulteriore stimolo, ulteriore forza, ma credo sia stata l'ennesima dimostrazione, mi disse ragazzi, siamo all'artezza di giocare con tutti e ce la giochiamo con tutti. L'esperimento di Bubacar come esterno sinistro dell'Etridente come approvato a Livorno, l'ha convinta, mister, pensa che potrà essere riproposto, non so se già domani dall'inizio, oppure no? Sì, è una soluzione che avevamo pensato, avevamo visto un allenamento a volte, è diverso, è diverso rispetto all'interprete di solito che fanno quel ruolo, non è la stessa cosa indubbiamente, e forse guadagni qualcosa, perdi da un'altra, però ecco, l'esperimento di Livorno, anche se parzialmente al primo tempo, credo che sia positivo e credo che sia sicuramente in determinati momenti, in determinati partiti, di poterlo anche riproporre, certo. Sugli infortunati, mister, quanti ne recupera Castiglia Damiani e Gaddini? Ma Damiani a me è a disposizione, credo di sì, è stato con noi tre giorni, gli altri Gaddini no, Gaddini assolutamente non si è mai allenato con noi, Castiglia vedremo, vedremo. Dall'inizio sicuramente, posso di consigurezza, nessuno.